Colpito da infarto mentre era impegnato nel suo spettacolo al Cinema Teatro Impero di Trani dove si stava esibendo per la rassegna Giasa e Vintorni. L'attore Massimo Lopez è giunto ieri sera intorno alle 23.45 al pronto soccorso dell'ospedale Lorenzo Bonomo di Andria dopo aver accusato un dolore fitto al petto. Lo spettacolo è stato ovviamente immediatamente interrotto ed è stato subito richiesto l'intervento dei soccorsi. Portato in camerino sul posto intervenuto personale del 118 di Trani postazione Mike Dodici che ha subito identificato che si trattava di un infarto e ha salvato di fatti la vita all'artista. Successivamente Lopez è stato trasportato all'ospedale di Andria dove è stato ricoverato e trattato brillantemente in emodinamica. Successivamente è stato trasferito in cardiologia utice per il normale protocollo medico. Resterà sotto osservazione anche se le sue condizioni per fortuna non sembrano preoccupanti.